Soltanto pochi mesi fa abbiamo girato questa immagine della nostra amata Sperlonga, bella più che mai, con tanta gente felice, spensierata. Oggi, nonostante tutto, siamo qui, sempre presenti e pronti ad accoglierli. Questo non appena sarà possibile. Questo è un momento di stare più uniti che mai, esattamente come sono tutti gli operatori del Consorzio Sperlonga Turismo e del Borgo. Noi siamo qui, viviamo in questo borgo meraviglioso e siamo fiduciosi che con il tempo tutto andrà bene. E siamo pronti ad accogliervi di nuovo in questo vero angolo di paradiso chiamato Sperlonga. Siamo pronti ad accogliervi nei nostri ristoranti, con le nostre eccellenze locali. Solo cose buone ad un passo dal mare. Siamo pronti a raccontarvi la nostra storia, quella di Amigle, di Ulisse, di Tiberio, attraverso il vino e il cibo di questa magnifica terra. Siamo pronti ad organizzare la vostra visita e a farvi conoscere le bellezze del borgo. Sperlonga vi aspetta! Insieme scopriremo gli angoli più suggestivi della nostra costa. Siamo pronti ad accogliervi nelle nostre strutture, nelle nostre stanze dove l'igiene è la nostra priorità. Siamo pronti ad accogliervi con i nostri servizi migliori come facciamo da sempre. Siamo pronti per garantire il massimo dell'accoglienza in un luogo magico e splendente. Siamo pronti per le serate con i nostri eventi culturali e enogastronomici. Siamo pronti a farvi ombra con i nostri ombrelloni e stare in relax in spiaggia sui nostri lettini. Siamo pronti a far divertire i vostri bambini di parmale e a regalarvi il relax che meritate. Siamo pronti a farvi ammirare dalle nostre spiagge. I tramonti più belli che abbiate mai visto. Siamo pronti con le nostre spiagge pulite e curate della sicurezza di sempre. Siamo pronti a regalarvi emozioni, quelle vere, lungo tutto il litorale tra i più belli d'Italia. Siamo pronti a vedervi di nuovo sulle nostre spiagge dorate e a garantire che tutto vada bene. Siamo pronti ad accompagnarvi con il massimo comfort e la massima cortesia come sempre. Siamo pronti per essere il punto di riferimento della vostra vacanza in spiaggia. Bandiera blu da più di vent'anni. Sperlonga E i suoi operatori rispecchiano in pieno oggi il concetto di resilienza. Riuscire a riorganizzare positivamente la propria vita nonostante le situazioni difficili. E per questo tutti insieme diciamo Sperlonga non si arrende. Riuscire a riorganizzare positivamente la propria vita nonostante le situazioni difficili. Forza Sperlonga Il carattere si farà sentire Come sono le case aggrappate alla roccia Come già è successo altre volte Per ripartire in fretta Tutti uniti Sarà ancora più bello Con la magia di questo posto incantevole Ringrazio il consorzio Sperlonga Turismo E il suo presidente Leone Larocca Per questo video Io sono molto legato a Sperlonga Come sempre è stato legato a mio padre E per questo con il cuore vi dico Sperlonga vi aspetta E per questo con il cuore vi dico While no E per questo con il Dong conséquent Era una Mazzatura Per questo con il cuore vi dico E per questo con il counting